Sto pensando all'assurda necessità che Curry debba essere eletto MVP della serie finale per dimostrarne la vera consistenza. Ma è irrispettoso in assoluto, non solo irrispettoso rispetto a Curry. Cioè ho bisogno che Golden State vinca questa serie e dei giornalisti votino Curry MVP per poter dire che Curry è Curry. Ma non si può fare di meglio da un punto di vista, diciamo di logica aristotelica, ma guardatelo anche solo per l'idea di prendere quest'altro tiro. Se non è un campione è questo, ma dove sono i campioni? Chi ha mai visto un campione?